La cultura crea lavoro, crea possibilità per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, quelli con alte professionalità, ma in qualche modo coinvolgendo tutti in una filiera produttiva che può dare opportunità a tutti. Napoli è il più grande museo aperto del mondo, ma in questo caso la parola museo non dobbiamo intenderla come qualcosa che sta lì fisso, rigido, ma come qualcosa che alimenta una grande progettualità, un grande incontro emozionale con una grande comunità che quando vuole sa smuovere le montagne e attraverso la cultura, in particolare in queste ore, noi dobbiamo dire che possiamo sconfiggere la camorra e la criminalità organizzata. Dal prossimo febbraio, grazie al progetto Napoli Museo Aperto, 247 giovani dai 18 ai 29 anni iscritti ai centri per l'impiego, per la maggior parte con qualifica di guida turistica o interprete e finanziati con il progetto Garanzia Giovani, saranno impiegati per sei mesi nei musei del centro storico e nelle scenografiche stazioni dell'arte della metropolitana, in modo da far maturare un'esperienza sul campo, guidando i visitatori alla scoperta dei capolavori delle nostre chiese, quadrerie, refettorie e sale capitolari e per prepararsi nel prossimo futuro a forme di lavoro associato, per costituire cooperative d'arte e lavorare nel mondo della cultura e del turismo. Il progetto prevede anche la riapertura o l'ampliamento degli orari di apertura di 30 fra chiese e strutture museali e 10 stazioni dell'arte. Tanti giovani, centinaia di giovani che ci aiuteranno a tenere aperte chiese che erano chiuse, a tenere aperte anche il pomeriggio. Si comincia con le chiese, le stazioni della metro, poi si passa ai parchi e giardini, alle aree degradate, ai parcheggi da sottrarre alle occupazioni illegali. È un progetto rivoluzionario perché dura solo sei mesi con retribuzione, ma poi noi immediatamente lavoriamo per bandi ad evidenza pubblica che attraverso la forma delle cooperative i giovani possano trovare un lavoro stabile proprio attraverso la cultura e le aree varie della nostra città. A Napoli si sta creando economia e si stanno creando posti di lavoro proprio su cultura e turismo. È innegabile, questo è un dato statistico impressionante che noi stiamo investigando, stiamo analizzando i consumi di questo mese. C'è un lavoro diretto e un lavoro indiretto veramente senza precedenti nella nostra città.